Poracci bentornati, anzi ben spaventati sul mio canale. Visto che ci separa una settimana precisa da Halloween, ho pensato di dedicare i prossimi 7 giorni al tema dell'horror all'interno dei videogiochi. Non solo qui su YouTube parleremo della paura videoludica in tutte le sue sfaccettature, dal terrore puro all'orrido involontario, ma anche sul sito Viola faremo delle live tematiche a dir poco spaventose, quindi mi raccomando ricordatevi di seguirmi anche lì. Vi lascio il link in descrizione. E direi di aprire le danze con un bel listone delle 5 scene che più mi hanno terrorizzato nel corso degli anni. Non si tratta ovviamente dei momenti più spaventosi in assoluto, proprio perché poi ognuno ha la sua sensibilità, ma dei giochi che in un modo o nell'altro hanno lasciato un segno indelebile nella mia testa. Si tratta di giochi non certo recenti, invecchiati non proprio nel migliore dei modi. Per questo per molti di voi cresciuti a pane e Five Nights at Freddy's potranno sembrare dei titoli tutt'altro che spaventosi, per questo vi invito a condividere nei commenti quali sono stati i vostri incubi, i giochi che vi hanno terrorizzato enormemente e che ancora oggi non siete riusciti a superare completamente. Sono proprio curioso di leggere le vostre esperienze. Detto questo, prima di iniziare vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi nessun video della Por Horror Week. Iniziamo! Partiamo da un titolo abbastanza di nicchia, Clock Tower per Super Famicom. Si tratta di un survival horror del 1995 che non varcò mai i confini del Giappone e pertanto non è mai stato localizzato ufficialmente in una lingua comprensibile a noi occidentali. Il gioco, nonostante questo, negli anni è diventato un vero e proprio cult del genere e non solo ha dato vita a una serie di modesto successo, ma in un certo senso ha gettato le fondamenta per la nascita del survival horror. Senza Clock Tower non sarebbero mai esistiti horror dalle forti componenti stealth dove l'obiettivo principale è quello di nascondersi dalle minacce più che affrontarle a viso aperto. Ad esempio il recentissimo Remodered Broken Porcelain è un chiaro omaggio a Clock Tower, un vero capostipite del genere. Il gioco è una sorta di avventura grafica, un punta e clicca in 2.5D dove l'obiettivo principale è quello di far evadere la protagonista Jennifer e altre tre orfane dalla loro nuova casa adottiva. L'inquietantissima Clock Tower sembra infatti essere abitata esclusivamente da Bobby Burrows, o meglio lo Scissorman, una sorta di uomo deforme che non farà altro che inseguire Jennifer con un paio di forbici giganti. Tutto il gioco è una sorta di nascondino dove non dovremmo far altro che far perdere le nostre tracce all'inseguitore, visto che un confronto diretto porterà quasi inevitabilmente al game over. Grazie a un sound design impressionante e a un'estetica ripresa direttamente dai capolavori del cinema horror firmati dal maestro Dario Argento, Clock Tower riesce a creare un senso di ansia costante e opprimente, e penso che uno dei momenti peggiori che ricorderò per sempre sia l'entrata in scena dello Scissorman. Scissorman Scordatevi tutorial o indicazioni sul da farsi, dopo la violenta improvvisa comparsa dell'assassino, l'unica opzione disponibile era quella di darsela a gambe levate senza sapere esattamente cosa fare, e nessun nascondiglio poteva dirsi sicuro al 100%. E ancora oggi me lo ricordo bene. Siccome sono boomer e quando ero piccolo io la grafica in tre dimensioni era veramente gli albori, quell'incerto ammasso di poligoni che prendeva il nome di Alone in the Dark era quanto di più realistico e spaventoso i miei inesperti occhi avessero mai visto fino a quel momento. Anche in questo caso si tratta di un titolo seminale che gettò le basi per i survival horror che sarebbero arrivati da lì a poco, ma se è chiara l'ispirazione che un titolo come Resident Evil avrebbe preso da Alone in the Dark, il titolo di Infogrames era ancora più acerbo nel gameplay. Oltre ai tank control tutta l'interfaccia era mutuata praticamente dalle avventure grafiche e ogni singola azione andava richiamata aprendo un menu testuale a tutto schermo. Insomma immaginatevi un ragazzino di 6 anni che cerca anche solo di capire come muoversi e come uscire dalla prima stanza quando improvvisamente da fuori la finestra inizia a zompettare una non meglio identificata figura. Il resto lo lascio a voi. Lo so lo so, oggi tutto questo può sembrare ridicolo, lignosissima e inascoltabile. La scena è un'agonia inenarrabile ma vi giuro che all'epoca mi terrorizzava come poche altre cose al mondo. Come se non bastasse poi il filmato di Game Over mostrava il cadavere del protagonista venire portato su un altare sacrificale, rimandando a un immaginario horror lovecraftiano che non faceva che spaventarmi ancora di più su tutto quello che sarebbe potuto arrivare dopo se solo fosse riuscito a sopravvivere a quel primo difficilissimo incontro, cosa che non credo di essere mai riuscito a fare. Impossibile non inserire nella lista il primo indimenticato Resident Evil, il survival horror ad opera di Shinji Mikami che contribuì a popolarizzare il genere creandone anche molti degli stilemi. Ve l'ho detto, i giochi spaventosi di 30 anni fa oggi sono invecchiati decisamente male e non mi riferisco solo al gameplay legnoso o alla grafica primitiva. Resident Evil tentava di scimmiottare il pathos del cinema di genere americano sbagliando però l'atterraggio e non di poco. In ogni caso, all'epoca quella di Resident Evil era un'esperienza terrificante e tutti quelli che oggi sono giustamente riconosciuti come limiti in passato erano caratteristiche che ne amplificavano i punti di forza. La telecamera fissa e i tank control contribuivano a trasmettere un senso di pericolo non indifferente al giocatore che si ritrovava costretto a ragionare con attenzione su ogni suo minimo spostamento. C'è un momento però che per me vince assolutamente il premio di miglior jumpscare dell'epoca. Il gioco da subito ci mette di fronte a delle aree limitate da dei caricamenti e la minaccia degli zombie è sempre presente e accoglie il giocatore senza particolari sorprese. Entrando in un corridoio in una stanza, nonostante la visuale limitata, gli effetti sonori preannunciano il pericolo dietro l'angolo e la paura dello scontro non deriva dalla sua imprevedibilità ma dalla difficoltà di fermare l'avanzamento di uno zombie e dalla consapevolezza che ogni incontro è innanzitutto dannoso per le proprie risorse. Quindi venendo già da una vetrata e una finestra sfondata vi potete immaginare che razza di infarto mi prese una volta entrato in questo corridoio. Penso sia una delle entrate in scena più infami di sempre, un evento che cambiava radicalmente tutta l'esperienza di gioco. Da quel momento in poi non si poteva più stare tranquilli, il pericolo poteva manifestarsi da un momento all'altro senza preavviso e porca miseria sono iniziato ad odiare le finestre nei videogiochi e anche un po' i cani. Se ne avete la possibilità vi consiglio di recuperare la remastered in HD del remake per Gamecube uscita qualche anno fa. A differenza del remake di Resident Evil 2 e 3 si tratta di un'esperienza fedelissima al gioco originale ma che lo aggiorna degli standard decisamente più fruibili. Rimanendo però sempre in era PS1, la penultima scena è presa da Metal Gear Solid 1. Non si tratta di un horror ma l'action in terza persona di Kojima è stato forse uno dei titoli più rivoluzionari dell'epoca e di sicuro non c'è bisogno che ve lo presenti. Un gioco che trovava gran parte della sua riuscita in un cast indimenticabile, costituito da degli antagonisti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del videogioco. Se probabilmente la boss fight più iconica rimarrà quella contro Psycho Mantis, la preparazione al primo scontro diretto con il Cyborg Ninja rimane per me uno dei punti più alti dell'avventura di Snake, nonché uno dei più spaventosi. Già dal primo incontro con Revolver Ocelot viene fatto capire che si tratta di un personaggio completamente fuori controllo, una mina vagante che non si fa troppi scrupoli a sfoderare la sua katana per fare a pezzi gli avversari. E infatti il corridoio che introduce allo scontro sembra uscito direttamente da un film horror, tanto da non capire inizialmente se Snake si trova di fronte a un avversario umano o a un'entità sovrannaturale. Lo scenario è così raccapricciante che è difficile immaginare che sia stato un singolo uomo a lasciare una tale scia di morte e distruzione, una furia incontrollabile che non aspetta altro che l'arrivo di Snake. La tensione è così tanta che anche il buon Hal Emmerich, Otacon, non riuscirà a trattenere l'emozione dell'improvviso faccia a faccia. Volendo, l'orrore potrebbe essere amplificato anche dall'agghiacciante doppiaggio in italiano, e anche qui vi invito a recuperare il remake uscito per Gamecube, ovvero Twin Snakes. Il gioco purtroppo è famoso per aver cambiato completamente i toni dell'avventura, virando verso le sponde action a causa degli intermezzi diretti da regista Ryuei Kitamura, famoso per il taglio ispirato ad opere come Matrix. Anche la scena del corridoio ne risente decisamente, mostrando l'arrivo del cyborg ed esplicitando tutta la violenza che veniva lasciata all'immaginazione nell'originale per PlayStation. E chiudiamo con uno dei miei horror preferiti di sempre, ovvero il primo Silent Hill. Anche se la serie è ormai in un limbo produttivo da diversi anni, penso che quello di Silent Hill sia un altro nome che di certo non ha bisogno di introduzioni. Se fino a quel momento i survival horror avevano tutti quanti basato la loro carica su fattori semplici ma efficaci come il jumpscare, Silent Hill, per primo, riportò l'horror all'interno di una dimensione onirica e disturbante con una trama pensata per colpire a livello psicologico i giocatori. Alla lignosità di Resident Evil, Konami e Team Silent contrapponevano l'incertezza della nebbia, un'esplorazione senza punti fissi, una realtà completamente avulsa dalla razionalità e la sequenza introduttiva rimarrà per me negli annali dell'horror videoludico, un inizio improvviso e straniante che ancora oggi, nonostante la distanza di visuale ridicola e le animazioni incommentabili, è genuinamente terrificante. L'utilizzo dinamico delle inquadrature che scardinavano la compostezza del punto di vista era solo uno dei tanti tocchi di classe di quei primi minuti iniziali, un'escalation di raccapricciante disagio che culminava con la morte del protagonista. Si sarà anche trattato di un semplice sogno, ma un inizio del genere non può che essere un incredibile biglietto da visita per quello che il giocatore dovrà affrontare all'interno della cittadina di Silent Hill. E questi poracci erano alcuni dei momenti che più mi hanno spaventato durante la mia carriera da videogiocatore. Sono curioso di sapere se conoscevate questi giochi e soprattutto quali sono stati i vostri orrori videoludici che vi hanno segnato profondamente. Vi aspetto nei commenti, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like e ricordatevi di iscrivervi al canale e attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i prossimi episodi della Por Horror Week. Io sono il Poro Zombie, Michele Creep, ciao!